In un mondo sempre più complesso e incerto, la conoscenza basata sui dati è un asset competitivo fondamentale per le imprese. Prometeia Appia, piattaforma digitale di business information nata per governare gli shock nel mercato delle materie prime, si evolve per offrire dati, scenari e insight esperti su tutti i principali driver economici che influenzano le imprese italiane. Da oggi Appia è Analytics, per comprendere il contesto competitivo e operativo, identificare le opportunità e analizzare i rischi nei canali di approvvigionamento e nei mercati di sbocco, con elevati livelli di dettaglio microsettoriale e territoriale. Da oggi Appia è Previsioni, sfruttando una conoscenza lunga 50 anni, modelli econometrici innovativi e la consulenza di un team specializzato, consente di valutare le evoluzioni dei mercati e ottimizzare le strategie di approvvigionamento, pricing, pianificazione e risk management, migliorare il dialogo informato con fornitori, clienti, banche e stakeholder, definire piani di sviluppo industriali e territoriali. Appia è per imprese e associazioni, un ecosistema digitale ed interattivo, pensato per le PMI italiane e le loro associazioni, con analisi rigorose ma chiare e immediate e contenuti in continua evoluzione. Prometeia Appia è la bussola digitale per il tuo business.